Primo video sul canale sportivo del 2020, ai microfoni il vostro Matthew Torgar per parlare di Major League Baseball Sport che ovviamente non ha ancora iniziato la stagione, siamo ben lontani dal primo play ball della MLB 2020 che sarà a inizio aprile Ma da gennaio e nell'inverno soprattutto ci sono i colpi di mercato dove tutte le altre leghe ovvero NHL, NBA ed NFL sono in piena attività Il baseball si prende una pausa e nella pausa invernale diciamo offre tantissimi spunti e tanti colpi di mercato In questo video per appunto continuare il filone del baseball che insieme alla Formula 1 è lo sport principale di questo canale Andiamo a vedere quelli che sono i 10 colpi di mercato oggi più interessanti di tutto il panorama del baseball americano Baseball americano che appunto avrà il suo via tra poco meno di 100 giorni Il primo colpo di cui vi voglio parlare oggi è il seguente, vedete il lanciatore sudcoreano Han Jin Ryu Che ha avuto uno storico passato ai Los Angeles Dodgers e che è passato soprattutto in tempi recenti Purtroppo non ha mai vinto un titolo in MLB per questioni varie Considerato che i Los Angeles Dodgers hanno perso due finali negli ultimi tre anni Prima con Houston e poi con Boston Han Jin Ryu comunque viene dalla più grande stagione della sua carriera Ha considerato appunto la sua media ERA, quella che per chi non conoscesse il gioco del baseball È la media che un lanciatore concede di punti ovviamente a partita Calcolata sui nove inning Il sudcoreano sigla un accordo pluriannale con l'unica squadra canadese a oggi presente nella Major League Baseball E come viene riportato qui da questo articolo sono 80 milioni di contratto per appunto quattro stagioni Con i Toronto Blue Jays che hanno un core molto giovane e hanno preso effettivamente una star Toronto qualche anno fa era riuscita ad arrivare ai playoff nel 2016 come ultima apparizione Ed era una squadra senza dubbio molto più competitiva di quella della stagione 2019 Stagione 2019 per la verità interlocutoria per i canadesi Ma con Han Jin Ryu sicuramente hanno aggiunto un tassello importantissimo nel loro roster Leggiamo sempre dall'articolo qui riportato che Ryu la scorsa stagione ha concluso con 14 partite vinte Cinque sconfitte con appunto la miglior media di punti guadagnati sul lanciatore dell'intera Lega 2,32 punti Anche qui per chi non conoscesse il gioco del baseball e fosse un nuovo Sappia che nella Major League Baseball se un lanciatore concede in media tre punti a partita È un ottimo lanciatore Sotto i tre si è praticamente dei fenomeni Da tre punti ai quattro concessi a partita siamo nella normalità Sopra i quattro effettivamente qualcosa non va Han Jin Ryu dunque Ha avuto una media di questo tipo Segno che di certo è tutto fuorché un lanciatore scarso Tra l'altro Nei Los Angeles Ossos ogni tanto batteva anche Di conseguenza è un giocatore completo In American League Lega dove appunto militano i Toronto Blue Jays Non andrà di certo a battere Può essere sicuramente la star Per il quale la formazione canadese potrebbe puntare Per fare una buona stagione Nell'American League East c'è già Tampa Bay che è una squadra in crescita Ci sono gli Yankees che tra l'altro come avete visto dall'immagine di copertina Hanno fatto un grandissimo colpo ma di quello ne parleremo più avanti E i Boston Red Sox soprattutto che devono rifarsi dopo una stagione fallimentare Quella successiva alla vittoria del titolo dell'anno scorso Una division veramente equilibrata ma di quello ovviamente ne parleremo in primavera Appena poco prima del opening game che appunto come vi dicevo sarà a inizio di aprile Comunque il primo colpo interessantissimo di questa off-season è appunto il lanciatore sudcoreano Che qui rivediamo in foto Han Jin Ryu che da Los Angeles passa a Toronto Per una cifra appunto di 80 milioni per un complessivo di 4 anni Un'altra trade importantissima è per la verità una riconferma E la vediamo adesso ovvero quella dei campioni in carica Quella dei Washington Nationals in cui avevano ufficializzato Steven Strasburg come free agent Il lanciatore con la maglia numero 37 era uscito dal contratto per cercare di prendere più soldi evidentemente E ci è riuscito perché si prenderà più soldi come vedete 245 milioni di contratto complessivo Ma starà con i campioni in carica dei Washington Nationals E sicuramente il lanciatore cresciuto in realtà a San Diego Andrà appunto a essere riconosciuto come uno dei lanciatori più pagati della storia della franchigia Ovviamente qua si fanno paragoni con altri lanciatori che hanno avuto contratti simili Il più caro prima di Steven Strasburg ai Nationals fu David Price Che firmò con Boston a una cifra che vedete riportata 217 milioni complessivo Anche Strasburg andrà a percepire uno stipendio incredibile 11,4 milioni a stagione Contratto di fatto decennale Quindi un contratto veramente incredibile per la star effettivamente dei Washington Nationals Uno di quelli che li ha portati al clamoroso titolo vinto in sette partite contro gli Houston Astros Non c'è soltanto però la conferma di Steven Strasburg come lanciatore C'è anche un'ulteriore trattativa per una persona, uno utility player meglio, interessantissimo Ovvero Starling Castro che ha avuto un passato glorioso ai Chicago Cubs Starling Castro va di fatto a rinforzare il reparto interno dei campioni in carica E di fatto confirma un contratto di due anni a 12 milioni per appunto la formazione capitolina L'ultima stagione in realtà Starling Castro l'ha consumata ai Miami Marlins Battendo 22 fuori campo, 86 punti battuti a caso, una media battuta di 270 Che anche qui per chi fosse nuovo e non conoscesse il baseball Se un battitore batte intorno a zona 300 di media battuta è un ottimo battitore Tra i 250 e i 300 è un giocatore che può stare tranquillamente in Major League Sotto i 200 di media battuta è un giocatore che di base fa fatica a stare in Major League A meno che non sia un difensore della Madonna Queste statistiche non sono dette a caso, sono evidentemente la percentuale di battute Che vengono considerate come valide Ovviamente sono percentuali espresse in millesimi Il 270 vuol dire che se Starling Castro vede mille palline 270 volte la colpisce ed è da una palla in cui lui non viene eliminato Quindi è una statistica sicuramente di tutto rispetto Non è una superstar a tutti gli effetti Starling Castro Però comunque è un giocatore di tutto rispetto Che sicuramente potrà far gioco ai Washington Nations come utility pair Quindi un giocatore che può essere schierato in più ruoli A seconda delle esigenze dell'allenatore Il colpo però secondo me di questa off-season 2020 della Major League Baseball È questo qui Garrett Cole, ex lanciatore di Pittsburgh e Houston Soprattutto quest'ultima È andato ai New York Yankees Il colpo è sicuramente incredibile perché firma un contratto di nove anni Con la formazione di New York Per un totale complessivo anche in questo caso di 245 milioni È sicuramente il colpo più interessante Che appunto non solo si è guadagnato alla copertina di questo video Ma secondo me anche giustamente tutte le luci d'Ara del Balta Che ovviamente questo colpo significano Perché gli Yankees vanno a rafforzare ulteriormente Quello che è un monte di lancio fondamentalmente sontuoso Con Tanaka, con Severino Con un Garrett Cole in più Sicuramente gli Yankees potranno fare Provare almeno a raggiungere quel salto di qualità Che è un po' mancato nella scorsa stagione Che comunque li ha visti vincenti dell'American League East Li ha visti ai playoff Ma con un Garrett Cole in stato di grazia Se è quello che abbiamo visto a Houston E a volte anche nel primo Pittsburgh Attenzione perché gli Yankees possono essere un serio candidato Ancora una volta arrivare ai playoff Nella prossima stagione In una division, come ho detto prima L'American League East Che si è sprospetta più equilibrata del previsto È sicuramente un colpo importantissimo Per i New York Yankees Tra l'altro Cole è stato sempre tifoso Dei New York Yankees fin da bambino E dunque corona il sogno di giocare Per la squadra della sua città Comunque una squadra per la quale appunto Ha sempre fatto il tifo Gli Yankees che tra l'altro cederanno Un altro pezzo pregiato In questa off-season Ma ne parleremo ovviamente a fine video Perché personalmente da tifoso mi riguarda Cole la scorsa stagione Leggiamo sempre l'articolo Ha avuto un record incredibile 20 vittorie 5 sconfitte Se un partente arriva a 20 vittorie Nel Major League Baseball È sicuramente un fenomeno O comunque un lanciatore molto valido Media ERA Punti per lanciare sul lanciatore Di 2,50 E 326 strikeout Per Houston La scorsa stagione Assolutamente numeri Pazzeschi Per un lanciatore Che vestirà la casacca Numero 45 Storico numero di maglia Di Gary Cole Per gli Yankees Nella prossima stagione A oggi A mio avviso È il colpo Di questa off-season 2020 Insieme magari a un altro Che vedremo Sempre in chiusura Di questo video Finita la parentesi New York Anche se apriamo invece Un'altra parentesi gigantesca Su una squadra Che sta crescendo E sta mettendo tasselli Importantissimi Per la prossima stagione Qui vedete inquadrato Yasmany Grandal Con la casacca Dei Milwaukee Brewers Squadra nella quale Ha militato La scorsa stagione Grandal però In realtà Cambierà Casacca E vestirà La maglia Dei Chicago White Sox Squadra assolutamente Che sta facendo Tantissimi colpi In questo mercato Squadra sicuramente In crescita Un accordo totale Di 4 anni 73 milioni Per il catcher cubano Ex Milwaukee Brewers Ed è fondamentalmente Il contratto più alto Della storia Della formazione Della Southside Di Chicago Vedete che Grandal Riceverà 18,25 milioni Da qui Fino al 2023 Anno in cui Il suo contratto Scadrà Non solo però Grandal È il colpo Dei Chicago White Sox Ne è un altro Di colpo Veramente interessante Ed è Dallas Coichel Che ha avuto Un passato glorioso Agli Houston Astros Prima e ultimo Agli Atlanta Braves Anche lui Finisce Ai White Sox In questo caso Contratto triennale 55 milioni e mezzo Di contratto totali C'è anche Una possibilità Di estensione Del contratto Per un quarto anno Per il partente Con la maglia Con la maglia Numero 60 Che quest'anno È tornato Il playoff Con Atlanta C'era arrivato Già con Houston Quando Houston Stava ovviamente Andando a vincere Il titolo del 2017 Vedete qui Anche in questo caso Le cifre più dettagliate 18 milioni Ovviamente Fino al 2022 Più un'estensione A 20 milioni Per il quarto anno Quindi fino al 2023 Oppure In alternativa Koickel può effettuare Un buyout Quindi uscire dal contratto Per un milione e mezzo Di dollari E quindi essere classificato Free agent Per poi andare Effettivamente In una squadra Che potrebbe offrirgli Più soldi Un po' come ha fatto Strasburg Nella free agency A fine 2019 Per altri due Nuovi arrivi Dei Chicago White Sox C'è una conferma Ed è uno dei giocatori Più rappresentativi Della formazione Della Southside Di Chicago Ovvero Jose Abreu Il cubano Con la maglia Numero 69 Il prima base Estende il suo contratto A tre anni Anche lui quindi Scatrano nel 2022 50 milioni di contratto Per il cubano Sempre con i White Sox Squadra che Nella scorsa stagione Ha fatto veramente Una stagione Interlocutoria Nella terra Un po' di nessuno E cerca di rilanciarsi Dopo anni di buio assoluto O come l'anno scorso Stagione un po' così così Tre anni di contratto 50 milioni Per la indubbia star Dei Chicago White Sox Che viene da una stagione Comunque positiva Nel 2019 Con una media battuta Di 284 Ma soprattutto 33 fuoricampo Per un giocatore Che sicuramente Uno dei bombardieri Della squadra Di Chicago Uno dei fuoricampisti Più importanti Di questa Lega Soprattutto negli anni Recenti Ultimi tre colpi Di questo video Prima di congedarci Parliamo adesso Di National League Abbiamo fatto Una grossa parentesi Di American League Colpo all'interno Della stessa divisione Della National League In particolare Vedete Zach Wheeler Che vedete qui Retratto con la maglia Dei Mets Passare ai grandi rivali Dei Philadelphia Phillis Rivali di divisione Ovviamente Per un totale Di 5 anni Zach Wheeler Era free agent Quindi poteva Accasarsi In qualunque squadra Volesse E Philadelphia Ha pensato bene Di pagarli 118 milioni Totali Per 5 anni Ovviamente Facendo Un contratto Della Madonna Al numero 45 Leggiamo sempre Dall'articolo È uno dei 5 giocatori Dei Philadelphia Phillis Nella storia A ricevere Più di 100 milioni Di contratto Segno che appunto I Phillis Investiranno tanto Su Zach Wheeler Che ha avuto Una discreta stagione Ai Mets La scorso Campionato E ovviamente Punta al salto Di qualità definitivo Per una squadra Che vuole evidentemente Puntare al playoff Dove avere fallito Clamorosamente Nel 2019 Gli altri 5 giocatori Che sono stati Sotto contratto Con più di 100 milioni Totali Sono Bryce Harper Non abbiamo bisogno Di presentazioni Stella dei Washington Nationals Ex Andato ai Philadelphia Phillis Cliff Lee Non avete bisogno Superstar Di questa squadra Tanti anni fa Cole Hamels E Ryan Howard Uno di quelli Che ha vinto il titolo Dei Phillis Nel 2008 Questi giocatori Hanno avuto più di 100 milioni Di contratto Segno che erano Delle stelle Incredibili Della formazione Dello stato Della Pennsylvania E Zach Wheeler Ovviamente È uno di questi Altro colpo Clamoroso E rimaniamo sempre Nella stessa divisione National League West In questo caso Madison Van Garner Si sposta Dai San Francisco Giants Agli Arizona Diamondbacks Squadra che Secondo Van Garner Potranno addirittura Puntare a vincere Nel 2020 La stagione che verrà Van Garner Firmerà un contratto Di 5 anni 85 milioni complessivi Per il grande veterano Ex San Francisco Giants Che ha vinto una World Series Da solo Di fatto nel 2014 Ed è un colpo Incredibile Per gli Arizona Diamondbacks Che provano A ripetere il colpo Alla Zach Granke Altro lanciatore Strapagato Qualche anno fa Con Zach Granke Gli Arizona Diamondbacks Hanno fatto un salto Di qualità Andando dall'anonimato Ai playoff Con Mason Van Garner Provano non solo A tornare ai playoff Ma anche arrivare Oltre L'accesso ai playoff E quindi addirittura Una vittoria Di un titolo Che avrebbe del clamoroso È secondo me Una voce molto azzardata Considerato che Nel baseball È difficilissimo Arrivare a vincere Dal nulla Per carità Abbiamo avuto esempi In tal senso Sicuramente Van Garner Agli Diamondbacks È sicuramente Un colpo Incredibile Come vi dicevo 85 milioni Per 5 anni Sicuramente I D-Bucks Sanno Sicuramente Il fatto loro E sanno Come Andare a Far tornare Una superstar Al loro cospetto E Van Garner Di certo Seppur Oltre 30 anni 32 anni Esattamente Per il lanciatore X-Giants È sicuramente Una superstar Bisogna vedere Come se la caveranno In questa stagione Che come free agency Signore È una delle più belle Che potevamo assistere E anche come Trade nell'off season Sicuramente Una di quelle Di più alto livello Negli ultimi anni Anche perché Tantissimi Grandissimi Giocatori Si sono spostati Come abbiamo visto Già In questo filmato Con 9 trattative L'ultima Per concludere Appunto Questo video Di off season Della MLB 2020 È questo E un po' Mi riguarda Perché come sapete Io sono tifoso Dei New York Mets E non potevamo citare La mia squadra del cuore In conclusione Di questo filmato Con un acquisto Incredibile Che va di fatto A sostituire Il closer Della scorsa stagione Appunto Ai tifosi Queste sono le statistiche In carriera Di Betances Le andiamo a vedere Una media in carriera Di 2,36 Con 36 salvezze Quando effettuava Appunto Il ruolo di closer E sarà quello Effettivamente Che Betances Andrà a realizzare Ed effettuare Nei New York Mets Il closer Di fatto È colui Che entra Nell'ultima ripresa La nona Per cercare Di portare A casa La partita E concluderla Con la sua squadra In vantaggio Di almeno 3 punti Per ottenere dunque La salvezza E dunque La chiusura Della partita Definitiva Betances Sarà sicuramente Una Addizione importantissima Per i New York Mets Anche loro Squadra Veramente in crescita Che anche l'anno scorso Abbiamo provato a fare La squadra per vincere Non ce l'hanno fatta Spero che con Tutti gli acquisti Che verranno fatti E con alcuni puntellamenti Si possa di nuovo Puntare ai playoff Betances Sicuramente È un colpo importante L'attivoso Mets Sono assolutamente contento E concludiamo dunque Con questo colpo I migliori 10 colpi Di questa off-season Della MLB 2020 Il colpo migliore Rimane secondo me Garrett Cole Seguito da Madison Van Garner Come seconda posizione Come terza posizione Come importanza Ci metto Secondo me La conferma di Strasburg E subito a ruota Tutte le espansioni Che stanno facendo I Chicago White Sox In conclusione Sicuramente È una free agency È un off-season Come trattative di mercato Clamorosa Tanti spostamenti Che possono sicuramente Migliorare Le squadre Che abbiamo poi citato Anche i Blue Jays Con Ryu Hanno fatto sicuramente Un grandissimo colpo Fatemi sapere Cosa ne pensate Se seguite il baseball Che cosa ne pensate Di questi colpi Di mercato E secondo voi Che cosa possono comportare Alle squadre Che hanno acquisito Le prestazioni Dei seguenti giocatori Soprattutto gli Yankees con Call Perché è il colpo Secondo me Di questa MLB 2020 Il saluto Da parte di Matthew Thorgard Ci vediamo A un prossimo video Del canale L'attività Tra l'altro Principale del canale sportivo Riprenderà In primavera Con la presentazione Della MLB 2020 E anche dei campionati Motoristici Che partono In primavera Se c'è qualche video Invernale Comunque da fare Sugli sport invernali Che seguo Benvenga O altri colpi del baseball Assolutamente arriveranno In ogni caso Iscrivetevi Se non l'avete fatto C'è anche la pagina Facebook Che è qui sotto in descrizione Per i video Che vengono complicati Sia su questo Sia sul primo canale Dove lì si parla Di rock and metal Che però Non ha pause Ovviamente Come tutta la discografia Ancora una volta In solito da parte mia Vi auguro Un buonissimo 2020 E ci vediamo A un prossimo video A un prossimo video